Anche quest'anno gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Buonarroti hanno realizzato un presepe tematico. È un presepe non convenzionale perché appunto siamo partiti dalla natività classica per poi affrontare le diverse problematiche attuali. Siamo partiti quindi dall'inquinamento, abbiamo rappresentato il sito archeologico di Sialimunte cercando di evidenziare proprio gli aspetti dell'inquinamento, quindi i sacchetti di plastica e poi siamo arrivati al tema dell'immigrazione. Abbiamo appunto rappresentato con una barca realizzata in cartone e metallo proprio questa problematica che è legata al nostro territorio e quindi si nota questa barca ancorata, arenata negli scogli. Poi siamo arrivati a rappresentare un'altra problematica che è appunto la mafia che affligge purtroppo il nostro territorio. L'ho rappresentato la strage di Capaci dove appunto il giudice Falcone, la moglie e la scorta persero la vita. Poi appunto nella parte angolare abbiamo appunto rappresentato un planisfero in polistirolo che è stato decorato dai ragazzi e un sole che rappresenta proprio la luce della speranza per un mondo migliore. Nella parte sul retro del presepe abbiamo rappresentato Monte Pellegrino che è uno degli aspetti tipici della nostra città di Palermo dove appunto abbiamo scritto Viva Palermo e Santa Rosalia e poi si notano anche alcuni elementi che rappresentano appunto la sicilianità come il carretto siciliano e il cupo di zucchero.